Il 75% delle persone con una perdita uditiva ha una perdita lieve e moderata. Di queste, 9 persone su 10 non portano un apparecchio acustico. Perché? Perché l'apparecchio acustico non rappresenta la propria immagine. Per queste persone il principale problema è lo stigma. Per questo Signa ha lanciato un nuovo apparecchio. Un apparecchio totalmente differente, che non ricorda l'apparecchio da tradizionale, ma un apparecchio bello, di design e con una forma totalmente differente. Vi presento Stiletto, un apparecchio differente dall'apparecchio acustico tradizionale e soprattutto un apparecchio tecnologico, che si ricarica con un caricatore portatile.